Oh! Oh! Cazzo! Come si! Come si! Come si! Come si! Come si! Un'ora di mo'. Ah be! Ho visto! Ho visto che... Era buono! Ma non male! Come si? Come si può battere sull'odi! Uno pari! Ah ok! Punto lost! Due! Tieni lui! Cambio! 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 su! ma quella pari ce l'arrivi sbadigliando, lo inventiamo perché ha fatto questo, ragazzi sapete giù che la bischvolle di Cristo tocca a me, tocca a me sì, vatti ma no, perché? ho sbagliato io, ho sbagliato io cambio coppia, vince all'Odi un'altra coppia di là, un'altra coppia di là su, Dio Cristo, ma quanto ci vuole ma che fa quest'altro, ci vede al cazzo no, siete una terno mi manca il bassista allora, di tenere i punti che qua te ne rubano non, 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 non cambia coppia, all'Odi vince anche il secondo round ma cosa sta, di cosa sta cantando? no, perché il suddice non si lava per il maiale molto bello e perché devo spiegare le regole di Bicciole, porca puttana ma che siete lobotomizzati? doppia ha fatto due punti dai, passi lù no, passi lù dai, dai, due o una si 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 Buona, buona, buona Buona, buona, buona Buona, 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 buona Buona, 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 buona Buona, 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 buona Buona, 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 bu tutto giusto e fallo anche in palleggio questo è il muro che voglio perché prima il gallo l'ho fatto mi pare un po' troppo così secondo me non è del tutto male l'ho fatto per scavalcare il muro di là grande battuta grande alzata è il profettino della sedia si dà una botta e si taglia la mano poi si ride 60 volte porco dì c'è arrivato a un millimetro cambio coppia passate un po' di pallone bravo Galeandro come sei chirale sembri persic no doppio palleggio chi è che l'ha scassata? sempre Nico l'unico che scassa la pala qua perché l'unico che salta finalmente bravi ragazzi sembrate tutti eterosessuali che giocatore intelligente che giocatore intelligente cambio coppia Galeandro devi rimanere porca la puttana cazzo di ritardato ti auguro poche ore di vita grazie a Dio di Dio grande battuta sopra la spalla esterna puttana battuta sopra la spalla esterna verso l'angolo questa è un po' più scolastica però porta davanti porta davanti Luca più a santi si muove quindi? Luca più a santi quindi 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 poi lo vuoi e poi beh quindi mi hai cambiato un cazzo battuta di merda andiamo mi ha rattotti che lettura di gioco finiscono la palla alta di ma se hai male la schiena ti fermo male 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 oh rimane che ti fermo facciamo a turno vabbè bravo 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 poi c'è dentro anche di tanto, che non è che è il castello, il castello c'è il metodo del segno dentro il canto vado io, ci dobbiamo attenuare ero io di qua vado io a muro palo? come hai fatto a farti male la schiena? hai ecco il torneo questo domenica hai ecco il torneo questo domenica lui comunque questa cosa ce l'ha, non c'è verso lui è veramente, dio santo un bangladese con una donna polacca dentro una cristalleria lui è così, io sono sconcertato lui è un bangladese con una cristalleria, è uguale sei sincero all'odi ti fanno mai le palle? ti fanno mai le palle? oh ma, io veramente... ti fanno mai le palle? ho giocato prima quando il tempo... ti fanno mai le palle? ti fanno mai le palle? io sono sconcertato purtroppo non puoi fare i gol di quest'anno eh, pezzate qui che sfiga non puoi fare solo io maestro sai che ci trovi al cilber? anche Francescone Carpina io Carlo ma adesso lo cambieranno dai perché è troppo stringente ca... sette in totale sette in totale si 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 sei si se in cielo Caleandro si si va se in cielo Caleandro Purtroppo Pallolo ha afferrato la gravità, visto che pesa ormai come il pianeta Terra. Sei riuscito a saltare il cestino del pranzo di Oli. E' una cassa di occhi di bue, suona pure quando vada perché la ritroviamo. Bravola a tutti! Apri dai! Apri dai! Nooo! Ma le recusi hanno messo apposta. Eh? Le recusi hanno apposta. Vedo? Non ho trovato il badinato. Non diventa il nuovo badinato dai! Questa è bella. Cerca di stare di più sul lungodino. Tanto è solo un intratatore lui. Molto bella! Grazie. Grazie, grazie! Grazie. Grazie. solo la prima quanto siete? 6-3 dai 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 palle fuori mamma mia passa accanto al muro di Alvig eh serviva quella gamba si non glielo dire perché guarda che non è come voglia guarda 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 non gli fare male prendila bene e metti a fondo campo che non gli dici per gli errori diretti non gli dici per la seconda no gesto d'attacco lento l'obiettivo è 0 persone che si vengono martedì via peccato bellissimo si perché si muove troppo poco su questa sabbia che si muove 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 Dai, 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 dai! 17! Lascia, lascia, ancora te che ci fanno. Tine? Sette! Qui, più che altro!